amici di canale caccia so che anche il tuo compleanno non so come ti chiami non tanto auguri grazie piacere massimo senti sensazioni di tiro ottimo ottimo fucile grande fucile grande fucile vedo con la b di beretta anche griffato naturalmente hai già di beretta in casa certamente ma qui ho visto che la cavali abbastanza bene anche i tuoi amici lì ho visto che uno me ne è sfuggito dalle telecamere ma poi diciamo che sono un tiratore scadente cadente cadente a che caratteristiche a quest'arma le caratteristiche bilanciamento dico va subito in mira certo sì sì no no ottimo ottimo per il tiro veramente si riesce a trovare il bersaglio facilmente bene quindi un giudizio assolutamente positivo positivo assolutamente benissimo ti ringrazio scusa se ti abbiamo strappato proprio grazie grazie grazie